Ben ritrovati su Rete7, ben ritrovati cari amici del Nord-Ovest. Inizialmente tempo ancora incerto, poi l'instabilità si concentrerà soprattutto sul Nord-Est, sull'Emilia-Romagna, pochi disturbi sulle regioni centrali perché protetti dall'anticiclone e al Sud aria molto calda, quindi un'Italia praticamente divisa in due o in tre addirittura. Comunque torniamo a noi sul nostro territorio cielo poco nuvoloso al mattino, entro il pomeriggio sono i rilievi alpini, i prealpini e scivoleranno dalle Alpi e dalle Prealpi dei temporali verso anche le zone pianeggianti della Lombardia, ma anche verso le zone pianeggianti più orientali del Piemonte, quindi al confine tra il Piemonte e la Lombardia. Poi in serata invece migliorerà nettamente, avremo temperature pressoché stazionarie perché comunque il caldo, le temperature più roventi investiranno il centro e il sud, noi saremo un po' più al riparo, anzi noi appunto come abbiamo visto abbiamo avuto delle ingerenze un po' più fresche, proprio oltre Alpe, ma poi hanno prodotto appunto dell'instabilità anche sul nostro territorio, quindi in quota le temperature di suono abbassate con ripercussioni anche al suono. Per il momento è tutto, amici di Retta 7, buon inizio, ancora buon inizio d'agosto, arrivederci.